Un caro saluto da Mario Giulianci, il tempo previsto per giovedì 1 ottobre. Sull'Italia insiste un'alta pressione, però in declino soprattutto al centro-nord per avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Ecco allora, il tempo previsto al mattino bello su gran parte dell'Italia, isolati rovesci su Levante Ligore e sulla Campania. Al pomeriggio isolate temporali su Levante Ligore e Alta Toscana, peggiora a fine giorno sulle Alpi, sulla Liguria, sulla Lombardia e sulla Toscana per l'arrivo appunto della perturbazione a cui prima accennavamo. Vediamo le temperature previste, temperature massime gradevole tra 21 e 24 gradi al centro-nord e sulla Sardegna, invece valori di 23-26 gradi sulla regione meridionale. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giulianci.